sapete cos'è questo questo è il più bel concerto filmato di tutta la storia dei pink floyd ebbene sì si tratta di un blu ray ovviamente beh oddio non tanto ovviamente però insomma nel mio caso è un blu ray io quando è disponibile il blu ray ovviamente punto sempre a quello e rappresenta un mitico concerto diciamo forse l'ultima grande tournée dei pink floyd di cui abbiamo memoria del 1988 questo è il concerto tenuto al nassau colisium di long island vicino new york e dicevo l'ultima grande tournée dei pink floyd e certo non c'era roger waters ma c'era tutto il resto della storica formazione al gran completo questo è veramente un prodotto sorprendente perché perché intanto bisogna pensare che nel 1988 non c'era la tecnologia digitale di ripresa audio video di oggi non c'erano telecamere ad altissima definizione che sfidavano le ombre senza nessun problema come accade oggi no all'epoca si girava esattamente come al cinema ovvero con gigantesche cineprese in pellicola 35 mm ed è esattamente dalle riprese originarie in pellicola 35 mm che è stato ricavato questo 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 progetto quindi ovviamente anche con un restauro di queste pellicole cosa vuol dire pellicola 35 mm vuol dire che anziché avere una macchina al massimo grande così che si muove su braccia mobili computerizzate eccetera c'erano giganteschi carrelli con telecamere pesantissime che volavano letteralmente sopra il palco cioè voglio vorrei cercare di comunicare questo le immagini che noi vediamo in questo blu ray che sono assimilabili a quelle dei concerti ripeto più recenti in realtà risultano ai miei occhi sorprendenti ben sapendo la tecnologia che era disponibile in epoca lì e spero di comunicare bene questo concetto un altro elemento incredibile di questo disco è la qualità del suono allora si tratta ovviamente di una ripresa dal vivo sappiamo quanti pink floydi siano sempre stati molto molto attenti alla qualità del suono io non ci giurerei non ci giurerei ma reputo che questa registrazione nativa sia stata realizzata in analogico sicuramente con un gigantesco multi traccia due pollici forse più di uno fra loro sincronizzati perché dico questo lo dico perché l'impatto il punch della cassa della batteria che nei momenti più devastanti del concerto se avete un impianto audio video adeguato letteralmente vi fa tremare il divano ma ve lo fa tremare non con quel senso di rimbombo tipico dei bassoni da audio video no proprio con quell'impatto che io conosco che ti garantisce una ripresa analogica di un certo tipo idem dicasi per la gamma medio alta e altissima delle frequenze che non risulta anche a volumi altissimi parossistici non risulta mai fastidiosa e ripeto siamo dal vivo quindi è un prodotto dal punto di vista tecnico assolutamente sorprendente vogliamo parlare della musica in quella tournée c'è stata un po l'apoteosi perché loro hanno riproposto un po il meglio della della parte migliore della loro carriera fino appunto alle musiche post roger waters di quegli anni lì che assolutamente mantengono tutt'oggi secondo me una validità straordinaria quella medesima tournée io poi ho avuto la fortuna di vederla dal vivo per ben due volte a distanza di pochi mesi prima allo stadio di modena e poi all'arena di verona fra l'altro nel palco reale quindi in una posizione super privilegiata e ho sommando diciamo i miei ricordi dell'epoca dal vivo deviso di quell'evento alle immagini che vedo in questo blu ray mi ritrovo perfettamente insomma per gli appassionati dei pink floyd è un oggetto assolutamente imprescindibile se non l'avete già preso correte a comprarlo perché proprio non potete farne a meno però anche per chi o dio esiste al mondo qualcuno che non conosce pink floyd diciamo che possa esistere qualcuno che non li conosce allora questo è sicuramente un viatico molto molto significativo per conoscerli e per tutti quelli che hanno sempre tenuto un atteggiamento diciamo pure neutro o di indifferenza verso questo grandissimo gruppo inglese è l'occasione per ricredersi e dire caspita questi sono i pink floyd buon ascolto e buona visione